119 euro a persona contro le 115 dell'inverno 2021, ma nel gennaio 2020, l'ultimo prima della pandemia, erano 160 gli euro a testa che i toscani avevano speso per i saldi di fine stagione. Sono le previsioni di ConfCommercio Toscana, a poche ore dall'avvio ufficiale, delle vendite di fine stagione che partiranno il prossimo 5 di gennaio. Oltre 88 mila i nuclei familiari pronti ad acquistare a prezzi scontati per un giro d'affari di oltre 24 milioni di euro. Lo shopping scontato, secondo l'associazione di categoria, coinvolgerà anche in provincia di Arezzo il 60% delle famiglie. L'attesa è molto alta, dice il presidente regionale e provinciale di Federmoda ConfCommercio, Paolo Mantovani. Tra lockdown e restrizioni varie, molti clienti hanno saltato almeno una stagione di acquisti e ora hanno bisogno di rinnovare l'armadio con capi adatti alle temperature più fredde. A farci ben sperare è anche il fatto che l'avvio dei saldi cade in un periodo ancora di vacanze per tante famiglie. In alcune città toscane la presenza di turisti connazionali per la maggior parte potrebbe dare una bella spinta allo shopping. Tra i prodotti più richiesti ci saranno giubbotti sportivi, maglie, sneakers, l'abbigliamento e le calzature, dice ancora Mantovani, saranno capi versatili che si presteranno bene ad ogni occasione per il lavoro come per una serata speciale. In ogni caso, afferma ancora Mantovani, per tornare ai livelli di spesa pre-covid ci vorrà ancora molto tempo e si lavora ridimensionando le aspettative.